Zip News, speciale meteo. Diurni in Appennino, temperature in calo, massime tra 29 e 33 gradi. Al sud sole prevalente su tutte le regioni, salvo annuvolamenti medio-bassi lungo il basso versante tirrenico. Temperature in calo, massime tra 29 e 35 gradi. È tutto grazie per l'ascolto in regia Rosario Perez. Le notizie nel modo più veloce.